Il video che avete appena visto è anonimo, l'autore non vuole comunicare il suo nome e lo rispettiamo. Cosa avete visto? Un power bank, un battery bank, ovvero uno strumento atto a caricare il telefonino quando siamo fuori casa, quindi un portatile. Ebbene nel messaggio c'è scritto ho iniziato a gonfiare, allora non reputandolo più idoneo all'utilizzo e hai fatto benissimo, l'ho forato e ho fatto un video da mandarti Gianni perché il tuo canale è sempre attento a queste cose. Ebbene ragazzi avete visto uno spezzone? Adesso lo analizzeremo tutto con i miei commenti perché le cose che voglio evidenziarvi sono innanzitutto la lentezza nella partenza perché non si è innescato subito il contatto, il cortocircuito, l'innesco, chiamiamolo così, ma c'è stata molta lentezza. Quindi la pericolosità di avere apparecchi che dormono, si lenti ma fintamente e tutto un tratto possono generare quello che vedrete. Secondo aspetto è non fidiamoci dei luoghi dove li lasciamo, che possono essere superfici infiammabili, sensibili alla temperatura. Mi viene scritto anche che la temperatura poi del supporto era alta. Non c'è stata nessuna fiamma, lo vedrete adesso. Comunque ragazzi vediamolo insieme man mano che commenterò quello che mi è stato girato. Buona battery bank. Allora ragazzi vi prego di avere un po' di pazienza perché potrei aver tagliato tanti spezzoni ma non l'ho fatto. Ne ho tagliati tanti ma l'ho lasciato lungo apposta per farvi capire il primo aspetto e la prima considerazione che faremo cioè quanto la risposta al punto d'impatto vedete il forcone che entra in queste celle pouch. Vi ricordo che questo è un power battery bank con celle litio pouch. Si vede perché è molto sottile. Se fossero state delle cilindriche sarebbe stato molto più alto di spessore. Quindi presumendo che siano delle pouch ecco che la prima puntura e qui già ho provveduto un taglio ragazzi se no era veramente lungo. Qui viene ripreso quasi con stupore no ma non succede niente. Sgancia il forcone pam secondo buco. Ebbene già molti di voi potrebbero a questo punto aver potuto dedurre vabbè non è successo niente ma allora ma allora è vero che non bruciano queste litio ma è vero che che qualcuno dice che non sono pericolose e a questo punto potevano essere anche che ne so sganciate il forcone e lasciate a se stesse. Vediamo che in questo momento esatto succede proprio questo vedete ha sganciato il forcone e il pacco è rimasto lì. Io sto tagliando diversi pezzi perché il video è molto lungo ragazzi siamo più di mezz'ora. A questo punto vediamo il tentativo di non rassegnazione dove pam si fa il terzo foro vedete al centro come quasi quasi come per dire ma Gianni che ha detto che sono pericolose queste litio ma sarà vero? Qui ho tagliato dei pezzi e niente non c'è niente da fare non vuole bruciare a questo punto che cosa potremmo pensare noi? Va bene lasciamolo lì significa inquinare l'ambiente oppure per chi ha cura della natura ovviamente l'avrebbe preso e l'avrebbe buttato magari in un cassonetto. Altra cosa che non si fa questi prodotti vanno smaltiti negli appositi centri. Ovviamente là dove c'è raccolta delle batterie andrebbero smaltite solo le batterie intese come pile stilo non certo le ioni di litio. Ebbene questo lo sto lasciando adesso perché qua nelle immagini comincia a intravedersi un leggero ragazzi guardate bene nel foro di destra un leggero fumo lo vedete proprio quasi impercettibile però che continua ad aumentare. Allora qui non voglio tagliare perché sennò rischerei di farvi pensare che sia veloce invece in questa lentezza c'è la sua reale nascosta pericolosità. Se noi adesso avessimo buttato questo in un cassonetto di quelli lungo la strada di plastica dove dove ipotizzavamo tanto questo è plastica metallo giusto corretto bene a quel punto avrebbe potuto creare un danno serio. Non buttiamo questi prodotti nei cassonetti portiamoli nei centri di raccolta. In ogni comune c'è il centro di raccolta ma concentriamoci adesso su questi istanti cruciali dove dopo non lo so vado non ho misurato il tempo vado così a spanne presumo che siano già passati da tutti i tagli che ho fatto 20 25 minuti mezz'ora e a questo punto vediamo che tutta questa lentezza questo piccolo fumo magari il soggetto già si era allontanato ebbene c'è un momento in cui avviene un innesco ed è esattamente questo. Vedete? Eppure è successo dopo tanto tanto tempo dalla prima puntura e qui iniziano a svilupparsi fumi gas tossici di ossina anche la plastica qui ragazzi ci imballa ovviamente anche della temperatura. Bene ecco finito tutto allora non è successo niente vabbè quattro fumate così potreste dire e ancora una volta ribadisco quanto sia subdolo quanto sia nascosto niente sembra che non sia successo niente ma attenzione a un certo punto ancora riprende vita questa volta ancora più di prima ragazzi sembra che sto facendo la cronostoria di un film di fantascienza guardate quanto quanto fumo sviluppa quanta temperatura ci sarà lì e stiamo parlando di un battery bank cosa sarà stato? 10.000 mAh cioè una roba insignificante eppure questi pochi watt continuano a buttare fuori questo fumo ora trovo strano molto strano che non sia partito anche il fuoco il dardo di fuoco allora posso desumere visto che non era nella descrizione che questo sia un power battery bank a litio ferro fosfato ecco posso dedurre questo ragazzi ma non ho le certezze questo è il comportamento delle litio ferro fosfato dove c'è fumo ma c'è anche temperatura perché c'è nato un cortocircuito che non sta smettendo e continuo ad andare immaginate tutto questo a casa vostra sul vostro letto sul vostro divano sul vostro mobile ragazzi ecco perché ribadisco l'attenzione questo è un canale fai da te ma facciamo le cose come devono essere fatte e se non siamo capaci avvaliamoci gli esperti il nostro amico il nostro elettricista ecco che a questo punto il tutto va ad attenuarsi e io qui interrompo perché c'è ancora minuti e minuti e minuti di questo fumetto che continua ad uscire probabilmente sviluppato anche dalle plastiche ecco il risultato finale eccolo qua lo vediamo chiaramente sono delle pouch non so se sono litio o l'ifepo 4 spero l'ifepo 4 cos'erano 3 fori mi sembro 4 3 o 4 fori proprio mirati e ha generato quello che ha generato questo risultato finale come avete visto ragazzi un video molto breve ma significativo noi abbiamo a che fare nel fai da te e questo è un canale fai da te quindi tutto ciò che è scambio sul posto connessione alla rete non viene trattato ma proprio per questo nel fai da te ci assumiamo sempre una responsabilità ovviamente tutti gli youtuber fanno i video con i disclaimer cioè fate quello che vedete solo se siete in grado o avvaletevi di esperti ma non è tanto una questione di questo tipo quanto che vogliamo sempre comunicare la pericolosità quando si tratta di batterie non solo al litio ioni di litio ma anche litio ferrofosfato le batterie al piombo ragazzi hanno tanta energia che a fronte di cortocircuito possono far bruciare gomma plastica mobili tende quindi non posizionate i vostri apparecchi portatili carica batterie quelli classici power battery bank vicino a tende oppure sul divano sul letto veramente nell'uso comune questo prodotto diventa talmente portatile che lo teniamo ovunque dalla tasca alla macchina e ragazzi vi voglio fare una piccola lista brevissima poi vi pregherei nei commenti di scrivere anche le vostre esperienze personali i vostri consigli affinché questa importante divulgazione diventi collettiva diventa un beneficio di tutti per evitare di farsi male ebbene il primo consiglio che vi do è non posizionate i batteri bank in maniera fissa in auto c'è chi li trasporta in auto e poi li lascia sul cruscotto sono quasi tutti elegantemente neri belli ma quel nero assorbe calore e in macchina arrivano a temperature atroci è vero che gli ioni di litio resistono a temperature alte ma non vogliamo mettere in crisi proprio questo aspetto cioè sorpassare la temperatura massima perché in auto col nero che assorbe i raggi solari arriviamo a temperature anche di 60 gradi e siamo alla soglia delle pericolosità un altro aspetto l'ho già detto prima non appoggiatevi su mobili, tende dedicate uno spazio siate attenti a quello che è il posizionamento di una batteria dove c'è energia potenzialmente pericolosa la dove a colpo d'occhio vedete che intorno ad essa non ci sono prodotti infiammabili quindi può essere un mobile, un tavolo di vetro un mobile metallico dove lavorate uno scaffale, una mensola ma non il divano il letto, la tenda, il comodino sono zone molto molto pericolose ora, molti hanno l'abitudine di utilizzare il power battery bank anche di notte sono talmente abituato che lo metto di fianco al comodino e mi carico da quello perché? mettete la spina nel muro del caricabatterie col cavetto e il battery bank tenetelo in una zona privilegiata dove non ci sono intorno prodotti infiammabili e lo utilizzate solo quando vi serve quando dovete uscire per l'utilizzo che è stato creato cioè un'unità portatile di energia un altro aspetto ragazzi non aspettate che esploda quando vedete leggeri rigonfiamenti è già un segnale di criticità massima quindi non aspettate che il prodotto si vada a rovinare da solo perché si potrebbe rovinare in maniera dannosa quando sono passati due anni basta il prodotto potreste anche valutare per sicurezza di smaltirlo negli appositi centri ovviamente non buttato nella pattumiera smaltito là dove raccolgono le batterie e qui non voglio aprire neanche la parentesi di dove raccolgono le batterie perché ci dovrebbe essere un posto speciale per l'elitio invece diciamo là dove ci sono ancora qualche qualche cassone per la raccolta delle pile lì non dovreste mettere le ioni di litio soprattutto perché questi sono posizionati spesso all'esterno chiaramente chi se lo mette dentro il suo negozio sono all'esterno in contenitore di plastica esposti al sole ok chiudiamo questa parentesi e andiamo avanti l'utilizzo con coscienza non dato ai bambini ragazzi non è un prodotto per bambini caricate il telefono no a parte che dare il telefono ai bambini e quante parentesi devo chiudere oggi ragazzi e chiudiamo anche questa parentesi insomma ragazzi la voglio finire qui questo video è breve avete visto fumo non avete visto fiamme possono esserci fiamme possono esserci dardi i dardi sono un'esplosione continua di fuoco che parte come fosse un missile rimane lì per un minuto o due finché non si è stinto tutto il combustibile ragazzi spero di aver fatto un video che richiama all'attenzione non all'allarmismo dobbiamo essere consci che sono prodotti tecnologici di cui oggi siamo circondati in maniera incredibile anche le macchine i telefoni stessi ragazzi ce li abbiamo in tasca con queste batterie che sono potenti ma un po' di attenzione un po' di occhio che faccia diventare l'utilizzo quotidiano delle nostre apparecchiature un'abitudine ragionata un'abitudine alla fine involontaria spontanea e non ci pensiamo più ma l'appoggiamo lì sul tavolo di vetro l'appoggiamo là sul bancone di ferro c'è chi lo appoggia sul pavimento non vicino alle tende quindi evitiamo tutti quei posti dove ci sono tessuti attenzione in garage carburanti eccetera non va assolutamente bene spero di aver fatto cosa gradita ragazzi se è vostro piacere se il video vi è piaciuto iscrivetevi a questo canale e ne vedremo sempre delle belle buona serata grazie a tutti